Il rapporto di Agici è stato molto interessante lato competenze perché ha evidenziato la necessità di nuove competenze per sviluppare nuovi modelli di business. In particolare ci siamo soffermati sul tema delle gare e su come sia necessario all'interno dei modelli di gara trovare delle nuove competenze sia lato stazione appaltante che lato operatore di mercato per essere competitivi. Quindi è necessario ibridizzare le competenze sia lato stazione appaltante che lato operatore di mercato e creare nuovi modelli di leadership e di cultura aziendale che supportino questa evoluzione di mercato.